da Valentina Antonello. Siamo proprio in compagnia con Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera dei Deputati, esponente di spicco dei Cinque Stelle. Ieri il vice segretario del PD Guerini ha ironizzato. Grillo scende dal tetto ma poi risale subito. Allora, questa apertura quanto è seria e a quali condizioni? Noi abbiamo esclusivamente detto abbiamo in questo momento, in questo paese, 10 milioni di poveri, 10 milioni di persone che non hanno né un lavoro né un reddito. Sei sotto la soglia di povertà assoluta. Mettiamo i voti insieme, non solo con il PD, con tutte le forze politiche. Facciamo un reddito di cittadinanza che esiste in tutta Europa. Molti italiani lo stanno prendendo perché sono andati a lavorare in Inghilterra o in Germania che dice 780 euro al mese per tre anni a chi non ha reddito non ha un lavoro. Tre proposte di lavoro. Se rifiuti la proposta di lavoro, perdi il reddito. Sulla RAI uguale. Cerchiamo di tenere fuori la politica dalla RAI, quindi significa anche fuori il governo. Inventiamoci un nuovo strumento che è nella nostra proposta di legge di Roberto Fico sulla RAI per far sì che il CDA e quindi i soldi del canone dei cittadini vengano utilizzati in maniera virtuosa per fare informazione e per fare sempre più cultura. Senta, reddito minimo di cittadinanza, ma con quali coperture? E poi, visto che il tema è su questo, è sensibile anche se la minoranza DEM, è possibile una maggioranza alternativa a quella attuale? Secondo me è possibile una maggioranza alternativa sul reddito di cittadinanza perché c'è una grande maggioranza nella società, nei cittadini, che in questo momento si sta formando. Molte associazioni, tra cui Libera, si stanno muovendo verso questo strumento che libererebbe l'Italia dal lavoro nero e dal voto di scambio soprattutto, perché è sempre un ricatto il voto di scambio che si nutre della miseria. Le coperture economiche sono state già individuate da noi perché la proposta di legge non è stata solo depositata. Attualmente è in discussione al Senato, nella Commissione Lavoro, e che interessa le maxi tasse sui grandi colossi petroliferi e sul gioco d'azzardo, ma anche i tagli ai costi della politica. C'è una spilza di coperture, ma la cosa importante è che sono state già bollinate dalla ragioneria dello Stato, cioè lente la ragioneria dello Stato ci ha detto che quelle coperture sono valide. Senta, questa apertura comunque al dialogo in aula la prossima settimana con il ritorno delle riforme istituzionali, come si concretizzerà? Che comportamento terrete? Noi porteremo avanti un comportamento coerente. Abbiamo detto, non ci facciamo illusioni, noi siamo disponibili a votare insieme le cose buone. Per noi, legge elettorale e riforme costituzionali non sono una priorità di un cittadino, ma soprattutto la legge elettorale in questo momento fa sì che chi vince, che chi governa non ha vinto. E soprattutto la riforma costituzionale porta i consiglieri regionali che sono la classe politica più indagata d'Italia in Senato, per noi non va bene. Detto questo, sulla legge anticorruzione, che è quello che io dicevo anche nell'intervista che citavate prima, noi siamo disponibili a votarla anche perché era un disegno di legge nostro. Si chiama Grasso Cappelletti. Cappelletti è un nostro senatore, ma è importante che non si facciano emendamenti a ribasso per aiutare Berlusconi e quelli come Berlusconi. La prossima settimana, dal 17 marzo, il DDL anticorruzione torna in aula. Quindi a questo punto ci può essere anche una vostra spinta? Se non si faranno, in quel disegno di legge, norme a ribasso, come quelle di ieri o come quelle sul falso in bilancio che escludono le intercettazioni, noi siamo pronti a votare un disegno di legge anticorruzione. Ma sia chiaro, la nostra priorità è il reddito di cittadinanza e sono leggi vere. In questo Paese, nelle leggi ci sono scritte cose bellissime, ma se non sono efficaci, non servono a niente. A chi, come Renzi, chiede di scongelare i vostri voti? Cosa rispondete? Io chiedo a Renzi e al suo partito di cominciare a ridursi un po' lo stipendio perché noi oggi, per questo siamo qui, abbiamo presentato il microcredito del Movimento 5 Stelle. 10 milioni di euro di stipendi tagliati del Movimento 5 Stelle e dei parlamentari che salveranno o faranno partire un'azienda al giorno per i prossimi dieci anni. Quindi, quando si parla di congelatore, qui gli unici che veramente si sono tagliati lo stipendio e hanno fatto qualcosa siamo noi. Grazie. Grazie naturalmente a Luigi Di Maio e a 5 Stelle e a Alina Potor.